Sì, con Asia Bragonzi, attaccante dell'Empoli femminile, oggi è arrivato il primo successo in campionato, è una vittoria meritata questa per l'Empoli. Sì, meritata, ci siamo svegliati il secondo tempo, il primo tempo, peccato, l'abbiamo un po' buttato via e meno male che abbiamo ripreso subito la partita in mano. Ma grande reazione quella dell'Empoli nel secondo tempo, cosa pensi che abbia fatto la differenza, come nasce questa risposta importante da parte della squadra? Coraggio di giocare, tranquillità e niente, siamo andate a prendere le alte e la palla è nostra. Un risultato finale che poi è stato deciso anche da due reti, quindi sicuramente anche a livello personale è stato un pomeriggio molto molto positivo. Sì, finalmente mi sono sbloccata e niente, speriamo di farli altri. Prossima settimana l'Empoli ha atteso da un appuntamento molto complicato in trasferta la continuità al suolo. Sì, sinceramente ora penso a festeggiare questi tre punti e poi da lunedì andiamo a 3.000.